Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Roller Team 295 TRL Zephyro. Cliccate qui sotto che si aprirà la scheda del nostro sito dove troverete tutte le caratteristiche, dimensioni, chilometri, optional compresi e la fascia di prezzo per meglio farvi capire l'oggetto. Ora andiamo nel garage, apriamo il garage, questo è un 6,99 letto per traverso, quindi ha un grandissimo spazio e garage. Questo letto si abbassa fino a questa altezza, qui sotto le dimensioni, oppure si alza fino a questa altezza qui, quindi ha uno stivaggio veramente grande e spazioso, due sportelli grandi sia a destra che a sinistra, quindi la possibilità di caricare da qualsiasi parte. Andiamo al suo interno, uno bello sportello, finestra, contenitore, zanzariera, maniglia per salire. Un camper omologato 5, quindi molto funzionale, questa è una zona giorno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando su 6,99 c'è il letto per traverso si crea sempre una bella zona giorno. Il tavolo che si muove e poi la possibilità di abbassarlo e farlo diventare una piazza e mezzo. Poi qui grandi contenitori, finestra apribile, pensile sul lato sinistro e pensile sul lato destro. Se ti piace questo video, iscriviti al canale YouTube Caravambaci e clicca la campanellina per essere sempre aggiornato e poi vieni a trovarci a Lavoria, Pisa. A Caravambaci è un team come me, camperista, quindi ti possiamo offrire professionalità, tranquillità e grandi risparmi con un grande parco espositivo. Questo è il letto basculante che è due posti, insomma, per ragazzini, eventualmente uno molto comodo per adulto. Protezione anteriore e protezione posteriore. La possibilità di salire o con la scaletta sulla parte posteriore oppure appoggiandosi sulla seduta delle poltrone cabina poter salire è molto molto semplice. Quando c'è il letto basculante molto spesso è un po' difficile vivere la zona giorno, però se avete due bambini, come vedete, lo spazio è più che sufficiente e poter fare colazione e poter uscire è semplice. Blocco cucina, un grandissimo piano d'appoggio, un bel lavello, tre fuochi, tanti contenitori, il pensile e poi cassettiera. Altra cassettiera e poi uno spazio sotto con il generale della 220, oltre ad avere questo spazio con i suoi contenitori escorrevoli. Eccoli qua. Frigorifero con congelatore e cestello portavivite. Poi un contenitore sopra il frigorifero. Accanto al frigorifero un enorme armadio e sotto un altro grandissimo contenitore. Allora, la parte letto, come avete visto, ha volume variabile, quindi questo si trova una via di mezzo, poi fino a qui si abbassa e si alza così. Però in relazione all'altezza ci sono gli scalini, per cui così, come vedete, ci monto bene, ma nel caso fosse più alto c'è l'altro scalino per salirle bene. Bene, un bello blu, la finestra laterale e questi pensili. Questo letto è comodo per due persone. Vedete, è accogliente e funzionale. Poi il bagno, qua la seduta elvate, vedete la porta, è veramente abbondante, c'è anche l'appoggio, quindi è comodo. Il contenitore, che è anche questo, essendo molto profondo, ci mettete tante cose e stanno ferme. Sotto il lavandino un contenitore e qua sopra un pensile. Finestra e oblò sopra. Poi, qua il lavandino, sia adulti che bambini, l'altezza è corretta. E poi lo spazio doccia. Come vedete, lo spazio doccia mi muovo bene, sia da adulto, ma anche poter lavare un bambino. Qua è molto facile. Quindi, un bel camper per due, quattro, cinque persone. Chiamateci, venitela a vedere, perché la nostra consulenza vi può aiutare ad acquistare il camper per la vostra famiglia e le vostre vacanze. Il nostro motto è libertà di scelta, quindi abbiamo tantissimi camper a farvi vedere, da poter scegliere. E come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao! Ciao!